Francesco Sarnicola, come è stato detto ho organizzato il congresso ma inoltre sono anche volontario per SIXO in questo progetto molto ambizioso ma credo di poter definire anche molto nobile. Innanzitutto volevo fare un piccolo briefing e recap su che cos'è SIXO. SIXO è una organizzazione senza scopo di lucro che ha come scopo quello di trasmettere competenze scientifiche tramite l'organizzazione di congressi dal 2001 ad oggi e colgo l'occasione anche per ricordarvi il congresso dell'anno prossimo dal 27 al 29 giugno a Torino e inoltre quest'anno abbiamo introdotto questa nuova iniziativa di missioni di tutoring e mentoring. Sul nostro sito è già presente un'application in realtà saranno due le application per la missione una è per coloro i quali vorranno richiedere una missione di tutoring e l'altra è per coloro i quali vorranno proporsi come volontari. Chiaramente per quanto riguarda i volontari non cerchiamo solamente chirurghi ma anche infermieri e assistenti in oftalmologia. Andando ad analizzare senza non riarvi l'application in modo rapido in un primo momento chiediamo semplicemente delle informazioni di anagrafica cioè chiediamo chi è che ci sta contattando, che ruolo ha all'interno dell'organizzazione e da dove ci contatta. Abbiamo poi bisogno di avere dei dettagli sulla sala chirurgica chiaramente io sono un laureato in economia e finanza non devo essere io a spiegarvi i vantaggi di avere una sala dedicata all'oftalmologia e non magari dedicata a più specialità. È molto importante anche la disponibilità di un microscopio idoneo che non significa per forza avere un microscopio di ultima generazione ma un microscopio che permetta una corretta visibilità del tessuto e dell'operazione. È importante sapere anche il tipo di autoclave a disposizione per calcolare il numero di strumenti da portare nella missione chiaramente un'autoclave che si realizza in 5 minuti permetterà all'organizzazione di portare meno strumenti rispetto a un'autoclave che magari impiega un'ora. Infine chiediamo se c'è accesso all'anestesia generale e locale e se è possibile fare anche il ricovero. Per quanto riguarda la parte numero 3 della nostra application chiediamo quali sono le dotazioni cliniche e chirurgiche della struttura che ospiterà la missione. Chiaramente è importantissimo la presenza di un OCT del segmento anteriore altri strumenti come la conta endoteliare o una macchina per fare il FACO una FACO machine scusate e una lista di materiali multiuso e monouso. Un tema toccato precedentemente chiaramente in maniera molto più competente di come possa fare io è quello del reclutamento di tessuti. Chiaramente i paesi che dovranno ospitare la missione dovranno avere una banca degli occhi nel paese in cui dovremo andare e comunque la disponibilità di trovare dei tessuti per quantomeno la missione. Dopodiché sarà compito anche di SIXO aiutarli a trovare i tessuti magari esportandoli da un'altra nazione. Chiediamo inoltre se nel caso in cui ci fosse già una banca degli occhi che potesse provvedere alla fornitura di questi tessuti se i tessuti possono essere già pretagliati e prestrippati. Infine riguardo alle risorse da formare chiediamo il numero di occhi che devono essere formati un breve CV per capire il livello di preparazione e di competenze acquisite nel corso degli anni quindi l'esperienza acquisita se c'è la presenza di scrub nurse quindi ferristi e il tipo di training per cui se sono più interessati a una tecnica piuttosto che un'altra oppure per un overview totale delle varie tecniche chirurgiche. Passando un po' a quella che è la mia specialità vorrei parlare della fattività della missione da un punto di vista di sostenibilità finanziaria e organizzativa. Chiaramente le variabili che vanno a influenzare il costo di una missione sono molte la più importante sicuramente è il costo dei tessuti che rappresenta un grosso ostacolo sia organizzativo che a livello di costi ci sono poi i costi di assicurazione di strumenti, di materiali di travel, quindi di viaggi e di hotel però queste sono tutte spese che dipendono poi dal tipo di missione che viene organizzata chiaramente una missione fatta con chirurghi europei in un altro paese europeo a dei costi sicuramente minori che a organizzare una missione dall'America all'Indonesia. Infine ci saranno dei costi di advisory perché chiaramente serviranno dei consulenti a livello legale e di cross-border regulation quindi delle relazioni per esportazioni di tessuti e quant'altro. Qui ho cercato di schematizzare in modo molto breve tre tipi di missioni una è low cost non in senso di qualità ma nel senso che i costi sono contenuti quindi è una missione dove i tessuti in realtà costano relativamente poco rispetto a quelli che sono vari di standard se dovessero essere importati da un'altra nazione con dei costi contenuti chiaramente di accumulazione e travel e strumenti che magari sono già forniti dalla struttura che ospita quindi nel primo caso abbiamo una missione che sostanzialmente avrà un costo molto contenuto se dovessimo andare in una struttura che ha bisogno di un po' tutta questa fornitura i costi come vediamo nella terza missione sarebbero molto più elevati questo chiaramente dipende dal tipo di missione e quindi l'application è molto importante per capirlo. Abbiamo poi sostanzialmente tre tipi di missioni a livello finanziario c'è una missione fully covered quindi è totalmente coperta dall'istituzione che accoglierà quindi la missione qui abbiamo messo una scritta verde nel senso green light come il semaforo queste possiamo farle sostanzialmente da subito come suggeriva il dottor Ponzin chiaramente servirà prima un progetto pilota ma crediamo di essere già in grado di poter organizzare una missione del genere ci sono delle missioni parzialmente coperte dove sia Sixo che il richiedente si impegneranno a raccogliere dei fondi ed infine delle missioni in cui magari penso più ai paesi del terzo mondo dove le risorse economiche sono più scarse in cui Sixo dovrà farsi carico di tutte le spese chiaramente dovremo organizzarci nel senso di trovare delle donazioni o delle sponsorizzazioni da parte delle aziende per poter affrontare i costi di queste missioni infine vorrei fare un ringraziamento ai membri del board perché all'inizio del progetto avevamo più di qualche riserva sulla fattibilità della missione e grazie alla direi immensa generosità di queste persone siamo molto più convinti di poter fare un ottimo lavoro e in qualsiasi campo credo che trovare delle persone competenti tecnicamente ma anche disposte a condividere le proprie conoscenze sia una realtà per cui senza queste persone non sarebbe possibile neanche pensare a una missione del genere grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti